ciao a tutti e ben ritrovati allora ieri abbiamo assistito ad un'altra pagina bruttissima di questa parte di youtube l'ennesima è stata registrata una telefonata senza consenso dell'altro interlocutore e piazzata su youtube reato certamente sì perché serve il consenso per rendere pubblico un qualcosa che è avvenuto in privato l'interlocutore caduto nella macchinosa trappola è giovanni leto che una volta accortosi dell'accaduto ha inveito contro chiara ad alessandro e la sua best friend del momento ma andiamo con ordine e scopriamo passo passo tutto quello che è successo tutto è partito domenica quando fate trasmette due live in cui analizza i referti medici pubblicati da chiara e poi fa ascoltare degli audio dove chiara e davide offendono pesantemente sia regina bastarda che marco tito da lì in poi il caos più totale live su live una peggio dell'altra pensate fino alle 4 del mattino con una chiara provata e al limite del pianto pianto a cui tanti non hanno creduto perché questo suo annunciato malessere ricorda molto il finto infarto di giocherino che fu consigliato dall'allora sua amica maddie live ma bypassando il fatto che sia vero o recitato andiamo a quello che è successo ieri allora ieri c'è stata una prima live di chiara dal titolo vergogna in cui racconta della pubblicazione da parte di fate nella sua community di due suoi referti medici di cui uno pubblicato da lei stessa anni fa e l'altro che pare fosse stato inviato privatamente da chiara ad una persona x poi riparte con le offese rivolte sia a fate che a marco che ieri tra l'altro risentito dalle continue frecciatine al veleno a video pubblicato la sua risposta di cui comunque parleremo più avanti e proprio con le offese rivolte a fate a marco si è conclusa questa prima live per poi aprirne subito una seconda dal titolo fetida sei una falsa ora ti sputtano la quale inizia subito con ulteriori offese a fate sempre più gravi e quindi denigratorie ai massimi livelli per poi raccontare che è stata contattata da giovanni leto che le ha confessato di essere stato lui ad inviare quel foglio a fate e le porgeva le sue scuse da lì poi è nata l'idea della telefonata a tre ma prima di questo chiara legge il messaggio scritto da leto a fate in cui dissente dalla pubblicazione di quel foglio che le era stato inviato dietro promessa di non mostrarlo mai a nessuno nel suo messaggio leto chiedeva anche a fate di rimuovere quel post immaginando ingenuamente che rimuovendo quel posto tutto sarebbe andato per il meglio ignaro del fatto che la sua telefonata con chiara e la sua best friend era stata registrata e che ora in questa seconda live chiara ha deciso di far ascoltare cioè ma non ci credo ma davvero la fa ascoltare e la risposta è sì perché si sente subito la voce di giovanni leto che saluta e inizia il discorso giovanni leto racconta che a seguito del suo litigio con chiara fate e marco l'avevano contattato e soprattutto molto insistito per avere dei dettagli in merito proprio a questa gravidanza così discussa allora quindi secondo il racconto di leto cosa chiedevano fate e marco chiedevano se chiara gli avesse mostrato delle prove della reale esistenza di questi due gemelli e che lui dopo un po' aveva deciso di inviarle queste prove che erano rappresentate proprio da questo foglio pubblicato poi nella bacheca di fate e questa telefonata va avanti per un po' con un leto che si giustifica e soprattutto si scusa nei confronti di chiara per aver ceduto questa prova che era stata passata in via del tutto eccezionale a lui in quanto ai tempi tra lui e chiara c'era una forte amicizia e soprattutto fiducia per confermare la sua totale buona fede cosa fa giovanni leto si propone di creare un post nella sua bacheca in cui racconta tutta la faccenda la cosa sembra piacere a chiara che accetta di buon grado tutto continua con con leto che viene esortato più volte ad esporre questa faccenda pubblicamente in previsione che sia fate a precederlo nel farlo viene consolato e confortato più volte e gli dicono ma non è colpa tua perché lei che è cattiva e lei che è pessima e lei che fa queste cose brutte tu non hai nessuna colpa ma nel frattempo lo stavano registrando e secondo me già con l'intento di sbatterlo pubblicamente su youtube ora volendo dire una cosa giusta ma secondo voi quanto fa schifo questa telefonata e soprattutto quanto fa schifo questo tipo di comportamento facciamo da da 1 a 10 100 sono veramente schifata e soprattutto stomacata da tutto il finto buonismo la manipolazione soprattutto l'incoerenza di questa telefonata e a giovanni vorrei dire allora scusami giovanni ma io penso che non hai neanche modo di lamentarti di ciò che ti è stato fatto perché anche tu è un brutto tiro l'hai tirato a fate perché si può capire che tu sia risentito del fatto del foglio ed è stato ammirevole che tu ti sia sentito in dovere di scusarti nei confronti di chiara però nel corso della telefonata nel momento in cui dici che fate è alta appena un metro e che non può criticare le altre facendo allusione al fatto che lei non sia così affascinante come vuol far credere voglio dire quello è body shaming gratuito che non ha senso nel corso di questa telefonata e onestamente parlando non si comprende bene la lettura delle tue azioni ma passiamo a quella che è stata la risposta da parte di marco tito in merito a tutta questa faccenda quella che abbiamo citato a inizio di questo vlog lo possiamo definire vlog questo o video commento ma vabbè chi se ne frega allora torniamo al video fatto da marco tito in risposta a tutto sto casino il quale praticamente dopo poco la è rimosso esattamente come aveva promesso il video portava per titolo spero di essere chiaro una volta per tutte allora io devo dire una cosa sì tanti diranno è marco ne ha fatte tante in passato ma io non lo so perché ma me marco è stato sempre simpatico allora cosa dice marco in questo video marco in questo video dice e sottolinea il fatto di aver ricevuto tante frecciatine velenose da parte di chiara e di non aver mai risposto perché per lui il fatto di essersi scusati a vicenda e promesso di non parlare più l'uno dell'altra bastava bene così cosa che lui ha mantenuto invece dall'altra parte un po' meno e diamogli pure torto comunque ha ribadito di non volerci entrare a nessun costo in questo dissimulato e che si dissocia da chiunque cerchi di tirarlo in mezzo sottolineando che avrebbe tutti i mezzi per poter rimettere al suo posto chiara ma sceglie di non farlo chiede solo di essere lasciato in pace ecco ora tutto questo vi sembrava già abbastanza ebbene non è finita qui perché perché ieri sera la ciliegina sulla torta ce l'ha messa davide davide nella sua live di ieri ieri sera praticamente è partito con l'offendere un utente che era lì a scrivere nella sua chat dandole della troia e affermando che questo obile era stato insegnato bene da sua madre che operava anche lei in tal senso poi da lì a poco ha voluto generalizzare quello che era il discorso e è apprezzurato la situazione dicendo che tutte le donne sono trote questi passaggi rilevanti della sua live io li ascoltate nella live di dama perché sorbirmi due ore di live di davide anche no la dama cosa fa risponde a davide dicendogli che trota ci sarà sua madre sua sorella sua moglie e la suocera ecco tutto il rosario passo giro alla dama non si può dar torto perché è un qualcosa di inaccettabile da parte di queste persone che si mettono lì in live e offendono la qualunque cioè senza conoscere oppure magari un commento mal compreso partono proprio in quarta sono talmente prevenuti verso chi scrive che anche un solo ciao viene interpretato ecco non mi veniva il verbo viene interpretato male come ha detto ciao per dire sia un idiota oddio se tu vai a pensare questo vuol dire che già di tuo il sospetto che lo sei ce l'hai e altrimenti non si spiega quindi un applauso per dama cosa dice inoltre dama dice a chiara sei tu che espone i fatti tuoi pubblicamente tipo la gravidanza la dieta eccetera poi è ovvio che chi ti ascolta chiede le prove altresì tieni tutto privato e amen e beh che 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 le vuoi dire alla dama c'ha pienamente ragione ora andiamo a fare un discorso di senso logico allora io apro un canale su youtube non sopporto i commenti fatti sui miei capelli ovviamente non andrò a fare dei video o dei vlog dove dico ah lo sapete io non reggo i commenti negativi sui miei capelli è logico che chi non ti sopporta le persone a cui stai sulle palle ops ho detto palle e la prima cosa che faranno sarà commentare i tuoi capelli per poi ritrovarti in un video dove ti lamenti del fatto che hanno commentato i tuoi capelli cioè io resto un attimo così dico ma ci siete o ci fate e qualcuno potrebbe dire ma è tutta una una tecnica no questa di sollevare delle critiche negative per poi poterci fare delle live buasta sopra anche perché ultimamente voglio di togliendo le live buasta di contenuti ne abbiamo proposti abbastanza pochi e lasciva come cosa è anche abbastanza fastidiosa e con questo commento vado a chiudere questo lungo riassuntone odierno e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto nel frattempo vi auguro buona continuazione giornata e un bacio a tutti da gossip